Il primo evento a Ferrara dopo il lockdown da Covid sarà quello di domenica prossima il 14 giugno e saranno i festeggiamenti della giornata mondiale del donatore di sangue che si terranno prima nella sede Avis di Corso Giovecca per poi trasferirsi al Parco Pareschi. L'Avis ferrarese vuole dare così un messaggio alla città e al territorio estense, un messaggio di solidarietà come quello dato dai ferraresi durante la fase più difficile dell'emergenza coronavirus. Nei mesi di marzo e aprile si sono rivolte alle nostre unità di raccolta oltre 900 persone che non avevano mai donato il sangue e che hanno dato la loro disponibilità a donarlo e che ovviamente nelle settimane successive sono state chiamate per fare questo. Questo è un segnale importante per me perché significa che la nostra popolazione quando vede che c'è necessità si mette subito in gioco e interviene. Ovviamente con tutte le difficoltà da dare il caso perché in quel momento noi abbiamo dovuto cercare di mantenere il distanziamento sociale, tutto quello che ne conseguiva, con estrema difficoltà. Quindi un applauso, un ringraziamento al nostro personale e soprattutto al nostro personale di volontariato che è intervenuto in quell'occasione. Avis in prima linea anche negli screening regionali con i test serologici tra i donatori che ne faranno richiesta. Si sta organizzando affinché nelle prossime settimane i donatori che vogliano esaminare il proprio sangue per capire se ci sono gli anticorpi lo possono fare. Noi ci siamo messi immediatamente a disposizione rispetto a questo tipo di richiesta dell'assessorato regionale perché ovviamente dobbiamo cercare di rispondere al meglio alle esigenze del nostro sistema sanitario regionale e quindi nelle prossime settimane i donatori che vorranno effettuare un esame per individuare gli anticorpi al Covid lo potranno fare tranquillamente nel momento in cui vengono a donare. Poi ovviamente laddove fossero positivi verranno presi in carico immediatamente dal servizio sanitario regionale perché ovviamente a quel punto il percorso deve essere accompagnato dal servizio di igiene pubblica e dal servizio sanitario regionale. La giornata mondiale del donatore di sangue che si celebrerà domenica è un appuntamento molto sentito dall'Avis ferrarese e ogni anno tocca un comune estense. Quest'anno si festeggerà a Ferrara. Questa giornata, il 4 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue che viene festeggiata in tutto il mondo e in Italia era candidata l'Italia ad essere la nazione che ospitava questo evento. Però sappiamo bene cosa è successo con questa pandemia, ha fatto rimandare tutti questi avvenimenti quest'altro anno sarà ancora l'Italia a ricandidarsi. Però noi non possiamo non festeggiare lo stesso quest'anno anche perché ci sentiamo moralmente veramente verso queste donatrici e donatori ferraresi e non solo ferraresi. Lo prendiamo tutti quelli dell'Italia, tutti quelli del mondo, che le ricordiamo in modo di ringraziarli. Ringraziarli per tutto quello che hanno fatto non solo in questo periodo ma anche dappertutto, sempre e continuamente. Domenica mattina alle 9.30 inaugureremo queste due panchine, una rossa che è il sangue e una gialla che è il plasma. E rimarranno qui nel cortile, davanti alla nostra sede, a testimoniare quello che i donatori e le donatrici hanno fatto sempre continuamente ed è un segnale importante. Poi ci sposteremo con una sfilatina al Parco Pareschi dove sarà celebrata la messa dal vicario generale, il signor Manservigi. E naturalmente che cosa c'è di novità? La prima volta che è insieme a noi ci saranno anche le ragazze del Palio. Cioè ogni contrada vuole esserci insieme a noi. Credo che sia anche questo un momento significativo di rappresentanza, diciamo così, del Palio perché voglio dire, anche loro hanno avuto purtroppo questo arresto qua con il coronavirus, però sono qui insieme a noi e ci sarà anche la prima uscita della banda di Conau, una rappresentanza che ci accompagnerà in fondo al Parco Pareschi. Naturalmente al Parco ci si viene con la mascherina, questo lo voglio dire, e con le distanze che noi cercheremo di mantenere con i nostri volontari e si può assistere tranquillamente perché il Parco è molto grande, perciò sarà un momento di ringraziamento soprattutto, ma anche e soprattutto un modo nuovo di riprendere la vita dopo questa tempesta che abbiamo avuto con il coronavirus.